Siamo al centro di Casalena, il centro di Casalena della Asle di Teramo, dove c'è tutto, dalla medicina sportiva al centro di pediatria, ai tamponi, vi ricordiamo i tamponi per il covid, c'è il drive-in, poi c'è anche il cert e poi c'è un campo, un campo non di patate, non un orto botanico degli ZS e della famiglia Rozzi. Guardate, questa cosa non la fate mai, la possono fare soltanto i professionisti che hanno questo guanto con una lamina di metallo che evita il taglio, guardate qui, abbassa, abbassa piano piano, questo è il primo campo sperimentale di tossicodipendenza, ecco, ecco cosa succede qui all'Asle di Casalena, c'è lo spaccio, il lunedì dalle 7 a mezzogiorno ci sono gli spacciatori, ci sono i tossicodipendenti e vengono a bucarsi qui, ma non è finita, venite a vedere negli edifici abbandonati sempre nel centro di Casalena della Asle di Teramo, andiamo insieme. Eccoci qua, eccoci qua in una struttura accogliente della Asle di Teramo qui a Casalena, forse questa struttura un giorno ospiterà il nuovo centro importante che sta sorgendo, che sorgerà a Casalena, ma nel frattempo è impegnato questo centro per chi viene a bucarsi, perché è giusto comunque avere un tetto, chi si vuole fare una siringa, accanto ovviamente a quelli che sono gli uffici e gli ambulatori che accogliono tutti i cittadini terramani, abbassiamoci un attimo, qui c'è un bottiglione uso famiglia di metadone, guardate che roba, e c'è un tappeto di siringhe, quindi anche i fachiri che vogliono venire qui a sperimentare quelle che sono le nuove tecniche di resistenza possono venire qui al centro di Casalena, basta col saccasmo, basta con l'ironia, i vigilantes qui intorno non fanno altro che far fuggire quelli che sono gli spacciatori tossicodipendenti, non ce la fanno più, secondo me ci vuole comunque un vero tavolo di sicurezza con tutte le forze dell'ordine, perché è incredibile che in una struttura protetta dalla Azra di Teramo ci siano spacciatori e tossicodipendenti.